Macabra scoperta a Pisa la mattina di lunedì 8 luglio quando intorno alle 9.30 i vigili del fuoco personale della polizia di stato e della polizia municipale sono intervenuti sull'ungarno Simonelli per il ritrovamento di un cadavere. Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto in zona Ponte Solferino. Ancora in corso le indagini delle forze dell'ordine, in attesa del medico legale al momento non esclusa alcuna pista, compresa quella del suicidio. Grazie a tutti.